Continuano gli appuntamenti con AgriSmart, i convegni della Coldiretti Molise dedicati alla presentazione degli obiettivi fissati dalla nuova politica agricola comune, tappa anche nella sala riunioni della Camera di Commercio del Molise a Isernia, al centro della programmazione 2023-2027, l'impegno dell'Unione Europea nel fornire sostegno più mirato alle aziende di piccole dimensioni, sguardo rivolto all'innovazione e alla sostenibilità per ridurre l'impatto ambientale. Dobbiamo coltivare, allevare, produrre i prodotti nel rispetto della casa comune, quindi oramai è un dogma che penso che oramai è fuori discussione a qualsiasi livello, altrimenti il mondo non ce la fa. Gli aiuti dovranno mitigare le condizioni di difficoltà in cui operano le aziende sul territorio, lo chiede a gran voce il direttore Aniello Ascolese, che auspica un forte rilancio del settore primario, gravemente danneggiato dalla pandemia e dagli aumenti dovuti al caro energia. Molte aziende si vedono a volte costrette a chiudere perché vuoi per i cinghiali, anche su questo se ne può parlare, ma vuoi anche per la viabilità, perché molte aziende non si vedono raccogliere il latte o non si vedono portare in azienda i foraggi perché il fornitore dice io lì non ci posso arrivare o comunque non ci arrivo perché ci ho rimesso la macchina. Ecco un appello forte alle istituzioni, quindi a quelli che saranno anche i nuovi soggetti che si presenteranno a governare la nostra regione, ecco di guardare con attenzione a tutte le categorie, io dico a tutte le categorie, perché dove sta bene, dove c'è l'agricoltura ci deve essere anche il commercio, ci deve essere anche l'artigianato e anche la piccola media trasformazione industriale. E sulla possibilità di introduzione in Europa di cibo sintetico Ascolese promette battaglia. Vediamo che molto spesso c'è qualcosa che non funziona e credo che ci possano essere anche interessi come nel cibo sintetico in cui multinazionali possono naturalmente mettere in campo un bioreattore che costa milioni di euro, quindi non certo il macellaio che fa la carne sintetica, non sarà mai un macellaio che farà la carne sintetica. conseguentemente l'Europa deve comprendere che vi sono culture e tradizioni attorno a cui si muovono anche interessi legati al turismo, al turismo enogastronomico che vanno assolutamente tutelate.